Salve a tutti, sono Bruno Spiga e sono qui a rappresentare la Key Secure PC SPA, una giovane azienda italiana operante nel campo dell'informatica e della sicurezza informatica. Siamo qui per presentare il nostro prodotto, Key Secure PC, il primo pen computer. Key Secure PC infatti è un disco allo stato solido con interfaccia USB 3, all'interno del quale è contenuto un intero sistema operativo, tutti gli applicativi utili all'attività lavorativa e chiaramente tutti i dati che andiamo a generare. Tutto interamente criptografato secondo l'algoritmo AS256. Quali sono i benefici e i vantaggi che si hanno dall'utilizzo di Key Secure PC? La portabilità, oggi con Key Secure PC possiamo portarci a presto non solo i nostri dati ma tutto il nostro ambiente di lavoro così come siamo abituati a utilizzarlo e lo possiamo replicare nel 95% dei computer che possiamo avere a disposizione in giro per il mondo. L'altro vantaggio è dato dalla criptografia che fa sì che quando io mi muovo da uno di questi computer a un altro lo faccio in totale sicurezza. Se dovessi smarrire questo oggetto o mi dovesse essere sottratto ho la matematica certezza che nessuno potrà accedere ai miei dati, ma non solo ai dati ma neanche ai software, quindi alle cronologie, eventuali link a file recenti, niente di niente visibile da chi che sia fuorché il titolare che dispone della password di accesso. L'altro vantaggio che ho è che Key Secure PC è il primo e unico al mondo completamente stand alone. Questo fa sì che tutte le macchine in cui io mi trovi a operare non vengono assolutamente, non ho nessun tipo di scambio file con esse, quindi lavoro in queste macchine senza lasciarvi nessun tipo di file o traccia di esso o una voce di registro. Niente di niente rimane sulla macchina alla quale mi appoggio per utilizzare il mio ambiente di lavoro. Quindi abbiamo una totale sicurezza e una totale mobilità del proprio ambiente di lavoro. Inoltre possiamo anche dire che il sistema operativo è un sistema comprensivo di tutti quei software utili per l'attività produttiva, immune da virus e facile da usare.